Bentornati signori e signori dall'Eccelso di Roma Channel in questo nuovissimo video Allora, oggi abbiamo una marea di notizie di cui parlare Non pubblico video del post partita, purtroppo ho avuto compiti, robe da fare, insomma verifiche Già la seconda settimana, per fortuna è l'ultimo anno di liceo Vabbè, comunque, quindi un augurio anche a tutti i liceali, tutti gli studenti che faranno l'ultimo anno come me Che avranno poi la maturità, ma vabbè, questo stronzato che volevo condividere Comunque, ciao a tutti proletari, comunisti e compagni e camerata Detto ciò, detto ciò, allora, notizie L'Uvumbo finalmente ufficiale, quindi classe 2002, angolano, non lo conosco, non dico nulla Dico solo che, secondo tutti i critici calcistici, è uno degli africani più promettenti di questa nuova generazione Quindi esserselo preso per quella cifra va più che bene Alla fine i talent scout servono anche, cioè, soprattutto a questo, no? Prendere giocatori che sembrano sconosciuti per poi vederli, dimostrare che siano stati Dimostrare che sia stato un colpo pazzesco Pazzesco, io non mi esprimo ovviamente, non lo conosco Poi sono arrivati anche i due fratelli Tramoni Il più grande 2000, mentre il più piccolo 2003 Mi sembra che siano questi gli anni di nascita Il più piccolo è uno dei talenti francesi più seguiti e anche con maggior potenziale da quel che si dice Mentre il più grande non sembra sto fenomeno, però da quel capito è un'ala trequartista, una roba di questo tipo Quindi, secondo me, forse può fare ancora un anno di prima All'età forse ancora per fare la primavera, sì E poi verrà inserito man mano in prima squadra e magari potrebbe rientrare nei giri ogni tanto Qualora ci dovesse essere qualche infortunio Quindi questi due acquisti io dico molto molto bene perché si investe per il futuro Si sta iniziando quest'anno a investire sui giovani, su Tripaldelli, su Zappa, sui due fratelli Tramoni, sul Vumbo Con una primavera che comunque sta sfornando talenti importanti Quali Ladinetti, quali Carboni, quale Boccia Quali anche tanti altri giocatori Gagliano, Marigosu Che poi vabbè, chi va via, chi meno Però comunque tanti talenti Ora, ora si parla ovviamente dell'arrivo di Godin Sembra essere tra oggi e domani Ormai ogni giorno è oggi o domani Io, vabbè, sono abbastanza fiducioso che possa arrivare E idem Nainggolan Nainggolan io, come vi ho detto il primo giorno Beh, io sinceramente all'inizio ero sicurissimo arrivasse Poi dopo che Giulini ha parlato in quel modo Io sono stato un attimo basito E sinceramente mi sembrava molto strano Perché io sono sicuro che Di Francesco sia venuto Soprattutto per Nainggolan Quindi sia stato promesso a Di Francesco Soprattutto a Nainggolan Quindi qualcosa c'era Qualche contatto c'era C'è sempre stato Quel giorno in cui Giulini ha detto Nainggolan non è possibile riprenderlo È stata una grande sia cazzata E tutti quelli L'aveva promesso, l'aveva promesso Merdaccia Adesso io sono contento se lo prendiamo Soprattutto perché glielo rimette nel culo Detto ciò Io di Nainggolan Ovvio sono contentissimo perché è un giocatore che quando è in forma Ti fa quei due mesi dove ti fa vincere tutte le partite lui da solo Però è anche un giocatore con il quale Che io non riesco bene a dimituare in un 4-3-3 Quindi secondo me il modulo più probabile sarà un 4-2-3-1 Per i giocatori che abbiamo Per inserire tutti i più forti Vedremo Vedremo comunque L'arrivo di Godin Nainggolan E le indescrizioni Su Kirk e Ounas Su Kirk addirittura si dice che già è stato raggiunto L'accordo Con il giocatore Con Ounas Si parla di un prestito Con diritto di riscatto Quindi Diciamo che La domanda che mi viene spontanea è Però qualcuno va ceduto Cioè va ceduto O meglio È vero che con i 5 cambi Potrebbero rientrare anche tutti nelle gerarchie Però prendere Kerr che prendere una Se tenere comunque Joe Pedro Così È vero che gli ali Veri e propri abbiamo solo sottili Perché Despodov non so se rimarrà Per Eero è più È più rotto che altro Quindi è vero che le ali Effettivamente servono Però Joe Pedro Joe Pedro lo dobbiamo considerare sempre come ala E Joe Pedro può fargli far panchina Boh non lo so Joe Pedro C'è forte il torino sopra Io sinceramente Joe Pedro Ve l'ho già detto Da un lato spero che se ne vada Perché il prossimo anno varrà la metà dei soldi Perché Joe Pedro come ala Non è un ala Non è un ala Cioè chiariamoci Non è assolutamente un ala E Detto ciò Altri nomi Appunto Unas Sta tornando fortissimo il nome Io sarei contentissimo Contentissimo Perché Unas Penso sia l'ala Adatta Di Francesco Come Sottile Io Unas Sottile Simeone dentro Sarebbe veramente un qualcosa di spettacolare E poi soprattutto Attenzione ragazzi Cioè va bene Fare una grande squadra Perché secondo me Dovessero arrivare E concretizzarsi Tutti questi nomi La squadra sarebbe una squadra Molto molto buona Molto molto buona Che al primo anno con Di Francesco Magari faticherà un po' di più Però Già Secondo me il prossimo Veramente deve Deve puntare Più in alto Cioè È un obiettivo Implicito Che però Noi ci Noi ci dobbiamo aspettare Non è che Ci aspettiamo Così speriamo Ci dobbiamo aspettare Soprattutto se la società Si mette ad investire In un certo modo Detto ciò Detto ciò Cosa stavamo dicendo Di Unas Sottile Boh Io ragazzi Sarò sincero Ah no ecco Dicevo Dobbiamo anche prestare Molta attenzione Hai A tutti gli esuberi Cioè Ci sono Bradaric Despo dove è considerabile Un esubero E chi lo sa Ci sono C'è Cepitelli Per quanto mi riguarda Anche Pisacane Per quanto mi riguarda Anche Faragò Però ovviamente Dobbiamo andare anche A vedere le esigenze economiche Cioè Più che altro Quelli che sono ancora I budget rimanenti Perché Faragò Se tu lo vai a cedere Poi devi prendere Un altro terzino È vero che c'è Pinna Quindi è vero Non c'è Pinna Scherzavo Quindi o Faragò Pinna è considerabile Un esubero Quali dei due Lo mandi via Ci sono Tanti dubbi Tanti dubbi Vicario Speriamo non se ne vada Speriamo non parta Nessuno dei top Tranne Gio Pedro Appunto Perché Gio Pedro Per quanto mi riguarda Potrebbe anche partire Ma io Non mi metto a strappare i capelli Cioè Mi dispiace tantissimo Perché è un giocatore A cui voglio benissimo Ma è un bene Perché ci sono affezionato Perché ormai Da tanti anni Che a Cagliari Però tutti La madonna Che gli abbiamo tirato dietro Prima dell'anno scorso Lo sappiamo solo noi È un giocatore Che per me Non può fare l'ala L'ha dimostrato Col Sassuolo Ma lo dimostrerà ancora Perché lo stesso gol L'assist È una giocata Da fantasista Arriva Lì Non si sa come Non d'ala Sterza Mette dentro Questo bellissimo pallone Simione la insacca Ma non è una giocata Da ala Che arriva sul fondo La crossa Oppure rientra e tira Non è una giocata Da ala Quella è una giocata Da fantasista Da grande giocatore Che si ritrova lì Così a caso Dovessero arrivare Godin Nainggolan O Unas E Kirk Io dubito che arrivino tutti Cioè Godin e Nainggolan Penso proprio di sì Sinceramente Soprattutto Godin È praticamente sicuro Nainggolan Idem Spero poi O Unas Ma perché Unas L'ho visto giocare Il Ligan comunque ha buoni numeri Ha avuto buonissimi numeri Kirk Sinceramente non so neanche Che profilo sia Ho visto che Il valore è di 10 milioni Un po' esagerato Forse sì Forse sì Detto ciò Ragazzi Io Qualche vi dovevo dire Ve l'ho detto Un bacio Nacca di Konec E ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi